Buongiorno sono Anna Bardacu, sono stilista freelance e da 2016 insegno la materia di stile 1 per il corso moda post diploma. Seguo gli studenti per tutto il loro percorso formativo e durante questo imparano con me a creare e progettare collezioni abbigliamento donna e bambino complete. A loro fornisco gli strumenti fondamentali per poter esprimere le proprie idee con il disegno ma anche le conoscenze tecniche che servono sia per disegnare sia per poter comunicare nel futuro con le altre figure professionali del settore. Il corso è organizzato in modo da far sperimentare agli studenti le varie fasi che si vivono durante la progettazione di una collezione abbigliamento all'interno dell'ufficio stile di un'azienda. Lo scopo è quello di preparare i ragazzi e le ragazze a una realtà professionale che richiede sempre di più figure stilistiche creative che sono flessibili e pronte a rispondere alle vere esigenze del consumatore finale. Il lavoro che facciamo insieme si svolge a livello soprattutto individuale così si ha la possibilità di riconoscere i punti forti dello studente, di coltivare i suoi talenti e di capire quali possono essere le sue difficoltà, i suoi punti deboli e insieme lavorare per superarli. Alla fine del corso ogni studente è appunto consapevole dei propri talenti e di come impiegarli a livello professionale. Insegnare all'Istituto Superiore di Grafica, Moda e Design è per me sicuramente una delle esperienze più paganti perché il rapporto e il confronto che si fa che si instaura con gli studenti dà l'opportunità di riconoscere che c'è sempre da imparare, c'è sempre da migliorare, basta avere molta molta passione per questa professione e molta volontà per mettersi in gioco.